Sarà Elena Lattuada, ex segretaria generale della CGL Lombardia e già capolista di Milano Unita alle ultime elezioni, la nuova delegata del sindaco Beppe Sala alle pari opportunità. Una delega è rimasta vacante quando il primo cittadino ha annunciato la sua nuova giunta e che ora, in continuità con lo scorso mandato, non sarà affidata a un assessore ma a una delegata. Negli ultimi cinque anni, infatti, il ruolo è stato affidato alla giornalista e scrittrice Daria Colombo. La delegata alla pari opportunità sarà di nuovo donna, come nel mandato precedente, ma sarà Elena Lattuada, che è una persona che nella sua vita è sempre stata nel mondo del lavoro e l'ultimo incarico è stato quello di segretario generale della CGL Lombardia, quindi conosce il lavoro. Credo che da lì bisogna ripartire, parità salariale e uguali opportunità sono importanti e quindi scegliere donne. Però c'è un compito anche che la politica deve svolgere, è quello di un po' cambiare le regole. Per esempio, credo che nei bandi, nei tanti bandi legati al PNRR, bisogna cercare di favorire l'occupazione femminile e l'imprenditoria femminile. Se si fanno queste due cose si fanno passavanti.